Musica Un'installazione che lega lo spettatore alla terra ma al contempo anche al cielo e all'infinito. E costellazioni la suggestiva esposizione dell'artista retino Franco Fedeli per il secondo anno consecutivo ospita il Museo Comunale di Lucignano dal 16 giugno al 20 agosto. Nella mostra si vedranno alcune opere affiancate al mio lavoro e sono dipinti di Henry Matisse, di Pablo Picasso, di Martini, Marino Marini e altri che dialogheranno con la mia opera perché fanno parte della mia ricerca. Nello stesso tempo c'è stato tutto uno sviluppo artistico basato su questi grandi maestri però in una maniera abbastanza originale cioè ho assorbito questa grande lezione e la interpreto in una maniera originale e come dire nuova. Noi è già il secondo anno che in realtà ospitiamo l'artista Franco Fedeli ormai è un fedelissimo e amico di Lucignano siamo molto contenti perché lui riesce a fare questo connubio spettacolare fra le opere d'arte storiche del nostro museo e l'arte contemporanea. Uno dei nostri nuovi fini istituzionali è quello della cultura e del turismo e quindi abbiamo immediatamente approfittato della cosa per far sostenere il comune di Lucignano e soprattutto l'artista Franco Fedeli che merita attraverso la qualità delle sue opere. L'estra è una grande azienda del territorio e continua a sostenere i propri soci indiretti e quindi anche l'amministrazione di Lucignano che si distingue sempre in questo tipo di attività che valorizzano la cultura, un artista importante come Fedeli che ormai è un punto di riferimento per il territorio e che è capace insieme all'amministrazione e al suo bravo sindaco di sviluppare progetti che possono anche contribuire alla crescita turistica oltre che culturale del nostro territorio. Lucignano ha punti di forza naturali ma dietro c'è anche un impegno per mantenerli tali, sicuramente una fisionomia architettonica straordinaria, sicuramente un contesto ambientale bellissimo, un museo comunale che accoglie opere di grande interesse oltre che di importante valore. E Coingas ha condiviso questa iniziativa del sindaco di Lucignano, Roberta Casini, proprio perché maggiormente valorizza il patrimonio che è già di per sé bellissimo. Infine per il finisage della mostra è prevista l'anteprima dell'opera che Fedeli sta realizzando per il comune di Lucignano, ispirata e dedicata al terremoto del 2016 dal suggestivo titolo Pathos. Grazie mille. Grazie a tutti.